amici di eventi press ben trovati da Giovanni Remigare qui a Roccavaldina guardate chi vi ho portato che bella Roccavaldina ragazzi bellissima avevamo fatto una bella una promessa vi porto uno straordinario artista Mario Incudine buonasera a tutti buonasera a tutti quelli che ci stanno vedendo allora intanto mi sono innamorato così colpo di fulmine per Roccavaldina ero venuto a Valdina giù ma non ero mai salito su è un borgo bellissimo abbiamo alle spalle questo castello bellissimo stasera devo fare per forza un concerto bellissimo perché poi la cosa importante farai un concerto bellissimo e quindi il borgo diventerà ancora più bello perché c'è la tua voce c'è la tua musica e c'è la tua storia io voglio partire da qui si esibiranno prima dei ragazzi gli uv4 ragazzini che ho abbracciato adesso a cui ho fatto i complimenti perché sono talentosissimi e quindi bisogna fare festa al talento ho visto questa ragazza che canta scrive fra l'altro degli inediti raffinatissimi elegantissimi quindi seguiteli perché faranno parlare molto di loro e adesso ci daranno prova del loro talento io benedico sempre i giovani quando cominciano perché devo dire che anch'io sono stato benedetto e fa bene essere benedetti da quelli che hanno fatto un po più di strada e partiamo proprio da lì da dove sei partito e dal fatto che comunque questa terra ti ha ancora più fatto diventare appassionato di musica e di tutto ciò che anche del talento di altri perché poi noi abbiamo questa grande forza noi soprattutto i siciliani ma soprattutto coloro che hanno passione quella di intravedere vedere qualcosa di forte quello che poi tu riesci a trasmettere con i due pezzi ma sai cos'è io mi innamoro di questa terra ogni volta che la percorro come oggi io sono arrivato qui non lo conoscevo il mio mestiere mi dà la possibilità di arrivare in posti che altrimenti non conoscerei e arrivi qui e ti sembra che il tempo si sia fermato è tutto pulito e tutto bello e allora quello che faccio io con la mia musica e restituire bellezza a questa terra che è stata per troppo tempo martoriata ferita dilaniata da una immagine sbagliata invece vero e ci sono le storture come in ogni cosa ma poi ci sono le cose belle allora noi dobbiamo esportare queste cartoline della sicilia e quindi quando io canto in siciliano quando io faccio il mio teatro in siciliano quando io scrivo in siciliano voglio scrivere di una terra vera autentica di una terra piena di speranza piena di giovani appunto che che si industriano che cantano che provano che vanno sul palcoscenico che vogliono raccontare la bellezza di questa terra e raccontare la bellezza di questa terra significa saperla cantare saperne raccontare anche le controversie le contraddizioni raccontare anche diciamo le ferite ma anche saperla rispettare e soprattutto per rispettarla cosa bisogna fare bisogna andare indietro prendere la memoria e portarla sul palcoscenico questo è sicuramente tra i tuoi i tuoi doni possiamo dirlo perché effettivamente riesce a trasmettere con la tua musica ripeto con la tua passione e con la tua anima tutto quello che è appena detto il tuo percorso è stato importante quest'anno sei stato sei dappertutto sei ovunque anzi averti qui è veramente un grande onore per gli organizzatori e lo so per certo c'è un grande progetto in atto un grande progetto che perché sei ancora un un eterno ragazzino hai voglia di esplorare hai voglia di di sperimentare di sperimentare di far qualcosa di importante abbiamo debuttato qualche giorno fa con uno spettacolo a cui tengo moltissimo si chiama parlami d'amore scritto da costanza di quattro con la regia di pino strabioli l'abbiamo debuttato in una cornice straordinaria è un festival importantissimo come la versiliana proprio a pietra santa in versilia in toscana e da lì partirà adesso questo tour che ci vedrà in giro per l'italia e per il mondo sto tornando da un tour in marocco portogallo e croazia a fine settembre andremo in corsica quindi la cosa bella è lo dicevo l'altro giorno a fiume di nisi la cosa bella di questo del tour di quest'anno è che abbiamo il 70 per cento di date fuori e il 30 per cento in sicilia questo può essere bello perché vuol dire che stiamo diventando ammasciatori di una certa sicilianità e quindi quando esportiamo la nostra sicilia in italia e nel mondo diciamo diamo appunto quell'immagine che dicevo prima in questo spettacolo invece con la regia di pino strabioli affrontiamo un repertorio che è poco battuto il repertorio e la storia delle canzoni tra le due guerre quando la radio raccontava la vita ecco è come dici tu è sempre bello andare a cercare nuovi stimoli l'ho fatto con l'omaggio che ho fatto a domenico modugno l'ho fatto andando a scoprire diciamo brani minori e questo è uno spettacolo che ci porterà dentro una musica che tutti conosciamo che a cui tutti siamo legati e che ci sblocca sicuramente un ricordo della nostra infanzia mi hai bruciato una domanda perché stavo per chiedere proprio quanto è bello puoi andare fuori fuori casa andare a fare a sentire la propria arte ma soprattutto i propri racconti no e quindi credo che ci sia un'emozione particolare è emozionante vedere come il dialetto che può sembrare un limite non lo è affatto invece è bello come in portogallo cantano in siciliano si appassionano è uscito proprio un articolo in portoghese quando l'ho letto mi sono emozionato perché hanno detto il talento di mario incutine è saltato dalla bellezza della lingua siciliana e questo penso che sia sia uno dei complimenti più belli perché anche se non capiscono il 90 per cento delle parole comunque entrano nel in quella atmosfera che la nostra musica crea entrano in quell'emozione che la nostra lingua crea e quindi diamo al pubblico una tavolozza di colori che rappresenta la sicilia pur non comprendendone magari al cento per cento le parole tutto questo è infatti poi alla fine un grande artista deve saper fare anche questo perché probabilmente ci avranno anche provato è però mario e però guarda l'emozione di tornare sempre qui e ora se ti ripeto abbiamo debuttato alla versiliana ma l'indomani eravamo a fiume di nisi ora siamo stati in portogallo oggi siamo qui domani andrea andremo in un festival importantissimo ad avellino nel diciamo nella bassa campania è diretto da eugenio bennato poi andremo alla notte della taranta il 14 a lecce in piazza a lecce insieme all'orchestra della notte della taranta però cantare in questi posti vedere ecco questi giovani che vengono a vedere il sound check a spiare in senso buono le prove è emozionante vedere ecco la signora che mi ha visto da dieci anni che la seguo farsi una foto questa è la misura del nostro rapporto col pubblico l'essere sempre senza quarta parete non c'è distacco tra noi e il palcoscenico questo è vero e questo è vero e posso posso garantirlo e per me è stato è stato un grande piacere averti qui con me mi godrò lo spettacolo avrò anche l'onore di presentarlo ecco e guardate c'è essere presentato da lui già è mezzo spettacolo fa venite subito venite le roccavaldina siamo qui pronti per partire ci saranno gli uv4 poi c'è mario incudine che ci farà scialare il termine esatto il termine giusto il termine giusto è intraducibile scialare perché scialare significa tutto scialare significa divertire ridere commuovere uno che si sciala si sciala e ci si può scialare anche commuovendosi divertendosi sorridendo pensando perché nella nostra musica nelle nei nostri testi si riflette si pensa e ognuno torna a casa con una così con un interrogativo con un pensiero con una con un punto interrogativo da risolvere speriamo che anche stasera a roccavaldina ognuno se ne vada a casa con un pezzo di noi che può sviluppare poi nel silenzio della sua stanza sarà così io ne sono certo noi ce lo godiamo fate presto venite perché tra qualche tra poco iniziamo e ci godiamo mario incudine con la sua meravigliosa musica grazie ancora grazie mario grazie a voi grazie a te ciao a dopo ciao grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te